Anticipazioni Beautiful, trama puntate, mercoledì 12 gennaio 2022. Liam raggiunge Steffi, affranto e preoccupato. Le parla di Hop ed è il rischio che sta correndo nel concedere di nuovo troppa fiducia a Thomas. Quest'ultimo intanto osserva la Logan aiutare Douglas a disegnare. A un tratto inizia ad avere le solite allucinazioni e sente la bambola sussurrargli di abbandonarsi alla passione con Hop. Paris ringrazia Zende per il tempo che le sta dedicando. I due si raccontano le proprie vite e provano a conoscersi meglio. La Buckingham gli chiede della sua carriera di designer e il giovane gli confida che Zoe è una sua grande fan. Paris poi dà un'occhiata alle sue creazioni e si rende conto che sono tutte disegnate per la sorella. Zende spiega che lei è il volto della Hope for the Future ma la ragazza intuisce che c'è dell'altro. Poi loda Paris affermando che anche lei ha tutte le caratteristiche per sfilare. Grazie a tutti.